Rikko, qui Sheldon. Ah, dovevo immaginare che saresti sopravvissuto. Cosa ti serve? Hai infastidito di Ravello e Costa del Porto sta per soffrire le conseguenze del suo disappunto. Pensavo che tu e i tuoi ragazzi avreste voluto saperlo. Grazie Sheldon. Mario, sei lì? Ho sentito. Ci vediamo fuori città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono la spina dorsale di ogni grande nazione. Il principio è la democrazia invocato dalle ipnotiche scatole digitali controllato dagli occidentali. Non è altro che un'urna elettorale piena, pagata... Gli interessi della sicurezza nazionale, come tutte le strutture governative, nasconde il sistema di stabilità agli occhi del popolo. Io non nascondo la verità al mio paese. La libertà esiste solo quando c'è l'ordine. Attento dove metti i piedi. all'err'e, aiutare i piedi. Non c'è l'uomo di uomo 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 di uomo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Rinforzi in arrivo. Dispaccio. Il bersaglio è ancora in libertà. Trovatelo! L'impio di altri rinforzi è stato approvato. Dovrebbero essere in posizione tra poco. Non lasciare... Non scappare. Grazie, è troppo spesso. Occhio. Grazie. Avvio del protocollo di ricerca. Provatelo il prima possibile. L'abbiamo perso. Tornate ai vostri posti. Ricostruite sulle rovinie del fassato. Finalmente poter riuscire a realizzare per un'emozione. C'è un'emozione. No, no, no. 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 Provate subito il ribelle. Non fatelo scappare. Il presaglio ha lasciato la zona. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Inseguimento terminato. Bersaglio, bersaglio fuori portata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. L'ho ferito! Bersaglio in libertà. Ristabilire il contatto visivo immediatamente. L'ho ferito. a tutte le unità allerta a ristabilire contatto visivo il bersaglio è fuggito riprendete il pattugliamento ehi cos'è quella? un appone? è un paracaduto? guarda che roba siete sicuri di volerlo fare? elicotteri in arrivo bersaglio in libertà ristabilire contatto visivo immediatamente attraverso il risultato Bersaglio perso. 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 Attenzione a tutte le unità. Bersaglio fuggito. State in allerta. Un paracadute. Un paracadute. Un paracadute. Ci siamo. Vi inviamo. Vi inviamo su porto aereo. Provate subito il ribelle. Non fatelo scappare. Bersaglio perso. Bersaglio perso. ブ left usaglio. Bersaglio perso. Bersaglio perso. Tornino ai loro posti. Il ribelle è fuggito. 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 sembra che io non sia il benvenuto. è fuggito. RICO, guarda il veicolo che ti stiamo segnalando. c'è un vip militare all'interno. e se per caso non arrivassi a destinazione? Andiamo. Ah, passa più tempo in aria che a terra. Ah, passa più tempo in aria che a terra. Avvio del protocollo di ricerca. Trovatelo il prima possibile. Impossibile localizzare il bersaglio. Terminare la ricerca. Caccia il generale dall'isola e restituisci i medici al suo popolo. Caccia il generale dall'isola e restituisci i medici al suo popolo. Caccia il generale dall'isola e restituisci i medici al suo popolo. Forza, venite! Sono pronto. Forza! 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 Ricco ruba questa macchina! C'è un ribelle dentro. Portalo in salvo. Aversi problemi allealti è… tuメ, reop Blues! Ho un paracaduro! Grazie, Galileo. Ci sono Showman. Dispaccio, il bersaglio è ancora in libertà. Trovatelo! Contatto nemico! Tutte le unità a queste coordinate. Presto! Contatto! Contatto visivo cessato. A tutte le unità, sparpagliatevi e trovatelo. Attenzione a tutte le unità. Bersaglio fuggito, state in allerta. Grazie, Rico. Da oggi sarò ancora più... Non male, ma io ho fatto dire. Tutte le unità disponibili a queste coordinate. Ripeto, tutte le unità a queste coordinate. A tutte le unità trovate il ribelle e ha messo l'uso della forza. Provate subito il ribelle. Non fatelo scappare. No, 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 no. Bersaglio in libertà. Ristabilire contatto visivo immediatamente. Eccolo là. Sulla testa! Sulla testa! Sì! Mi stiamo inviando supporto navale. A tutte le unità allerta, ristabilire il contatto visivo. Bersaglio in libertà, ristabilire il contatto visivo immediatamente. Il seguimento terminato, bersaglio fuori portata. Il seguimento terminato, ristabilire il contatto visivo. Il seguimento è iniziato. 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 L'una del silenzetto è iniziato. L'unico è iniziato. Il seguimento è iniziato. È還是 una tromba. Grazie a tutti. 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 Un morto in più. Un lavoro pulito. Grazie a tutti. 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 Avvio del protocollo di ricerca. Avvio del protocollo di ricerca. Trovatelo il prima possibile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.